Nuovo terremoto nel sud Italia dove una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata ieri sera alle ore 22.37 nella zona dei campi Flegrei nel Napoletano. La scossa ad una profondità di 2 km, scrive il sindaco di Bacoli, è durata per diversi secondi ed è stata avvertita da molti cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e Agnano. Non vi sono stati danni a persone o cose, sottolinea il sindaco. Continueremo in sinergia con le autorità scientifiche ed istituzionali a monitorare la situazione. Ha concluso.